No, niente sfoghi, niente sfoghi stasera su YouTube, che peccato, perché fino all'85 l'Italia stava facendo benissimo e poi, perché hanno pareggiato, anzi malissimo, scusate, poi perché hanno pareggiato su rigore con insigne, sicuramente adesso è una grande nazionale. Allora, molti di voi mi chiederanno, perché fai video sull'Italia se non la tifi più? Semplicemente per monetizzare, ok? Io sono sincero con voi, lo sapete, monetizzo e quindi, anche se poco, però comunque, tra il fatto che comunque mi va di parlare di qualche aspetto, di qualche giocatore e, appunto, soprattutto monetizzare, allora faccio il video, tutto lì. Detto questo, ragazzi, peccato che non vedremo gli sfoghi, appunto, di una sconfitta dell'Italia, mi dispiace perché volevo vedere tutta la gente così incazzata nera, no? Con le finte copertine, immagini. Poi oggi ho visto qualcuno che ha preso le difese di qualcun altro sotto il video su Farsopoli, eh, ma voi che lo insultate, poi sto qua, fa anche video su Allegri, eh, è una vergogna dare la panchina d'oro in questa maniera qui. Ovviamente l'anno scorso non ha fatto questa polemica. Dice, eh, vabbè, ma anche l'anno scorso, siccome era scandaloso, però l'anno scorso, ripeto, i video li fate sempre quando c'entra Juventus. Cioè, questa è la cosa che dà fastidio, perché poi dite in quel video, sì, ma ero d'accordo anche nell'anno precedente, però nell'anno precedente non l'hai fatto il video, cazzo! Ok? È questo che dà fastidio, come su Tutto Sport, ma sono d'accordo anche quando il Corriere dello Sport fa titoli sbagliati contro Juventus, eh, però non li hai fatti i video contro Corriere dello Sport. Solo contro Tutto Sport, perché ha detto una cosa, tra l'altro, vera, su tre giocatori della Juventus ex-romanisti. Comunque, chiusa questa parentesi, andiamo subito al punto. Allora, molti adesso fanno, si fanno seghe mentali, perché ho visto, sono stato uscito su, per quanto riguarda l'aspetto tecnico e tattico, Però, già dopo la sconfitta dell'Italia contro l'Argentina, tutti hanno detto, erano già con seghe mentali, non puoi mettere un allenatore che ha deluso con l'Under 21 ad allenare nazionale. Probabilmente Di Biagio farà il traghettatore, ma ovviamente questi competenti di calcio, evidentemente, non si sono neanche posti questa domanda, Perché, evidentemente, probabilmente adesso, un allenatore per il nazionale non lo trovi, perché saranno tutti occupati, evidentemente, ma questa è un'altra cosa che non prendono in considerazione questi fenomeni. Comunque, detto questo, Di Biagio, tutti fanno queste analisi, come quelli, come i milanisti che mi dicevano, Allegri ha fatto male con il Milan, Anche poi, tra l'altro, ha fatto male il terzo anno, perché il secondo ha sfiorato lo scuoletto di poco, il primo l'ha vinto, il terzo gli hanno distrutto una squadra, non poteva fare miracoli. Comunque, ripeto, io spero per voi che non vi giudichino, non vi giudicano, scusate, o non vi giudicano, vabbè, comunque, come cazzo volete, Per lavori sbagliati in passato, nei lavori attuali che vi assumono, perché se no siete veramente condannati con gli errori nei lavori, Si può anche migliorare e maturare con il passare del tempo. Comunque, chiusa parentesi, Di Biagio non è di sicuro lui il colpevole, dato che ha avuto una squadra in mano 4 giorni, 5 giorni, Vabbè, ovviamente questi. Però, parliamo dei giocatori fenomeni, allora, Insigne adesso, grande Insigne perché ha segnato un rigore, Per carità, il rigore è battuto benissimo, quando dico come bisogna battere i rigori, bisogna batterli così, perché non è a metà altezza, è angolato, è leggermente basso. Il portiere, anche se lo indovina, non lo parerà mai, infatti abbiamo visto, no? Bene, Insigne è bravo sul rigore, nulla da dire, però Insigne non ha fatto un cazzo, Giorginio, l'altro del Napoli, non ha fatto un cazzo. Immobile, il grande immobile, no? Perché poi, dopo, quando ha sbagliato 4 gol netti, perché questo non è, perché gioca le amichevoli, allora è demotivato. Il fatto è che questi gol li sbagliava anche nelle qualificazioni, poi qualche gol contro la Macedonia lo ha fatto, però, ragazzi, quando si parla di partite importanti, lui è sempre steccato, ok? Va bene, a parte contro la Juventus, comunque è sempre un ambito nazionale. Detto questo, non posso neanche dare la colpa a Immobile, perché Immobile è il capo cannoniere del campionato di Serie A, ok? Ripeto, della nazionale a me non frega un cazzo, però a me dà fastidio vedere, leggere, sentire tante puttanate che si dicono. Immobile è un giocatore da Lazio, basta, non è un giocatore da nazionale, non è un giocatore da big squadra, da Juventus ad esempio. È un giocatore, io lo seguivo già ai tempi della primavera, Immobile è un buon giocatore, ma da Lazio, perché la nazionale ha avuto giocatori come Izaghi, Tony, poi andiamo sulle avvieri, andiamo sulle seconde punte, ma anche Totti ha fatto anche la prima punta, volendo. Totti, Del Piero, Baggio, cioè ha avuto fior di giocatori e passare da questi giocatori a Immobile, e beh ragazzi, se ne passa, se ne passa e tanto. Poi, molti mi dicono, eh vabbè, ma è che non si investe nei giovani italiani, no. Il fatto è che i giovani italiani non crescono più come crescevano anni fa. Questi qui basta che facciano una partita buona e si definiscono, si autodefiniscono già campioni, hanno già la testa tra le nuvole. In altri paesi questo non succede ancora, perché ad esempio probabilmente arrivano anche da paesi un po' più, diciamo, poveri, come l'Argentina, come il Brasile, e questi giocatori qua, infatti, da questi paesi c'è qualche caso, però al 90% delle volte diventano, in Europa diventano fenomeni. Ovviamente, ripeto, c'è qualche caso come Gabigol, come Felipe Melo, però c'è, invece, vai a vedere, poi vabbè, il Ronaldinho di una volta, ok, però guardiamo Neymar, guardiamo Dybala, guardiamo Messi, guardiamo questi giocatori qui e sono di un altro livello rispetto ai nostri italiani, intendo, ai nostri giocatori italiani. Poi, per quanto mi riguarda, il concetto mio è sempre il solito. Una volta c'era una nazionale che aveva come base giocatori di Juventus e di Mina. Cioè, queste due squadre, che vincevano in Italia e in Europa, formavano la nazionale. Poi, in questa nazionale si inserivano dei giocatori del Palermo, della Sampdoria, della Fiorentina, della Lazio, ma erano due di qua, due di là, e va bene. Adesso è il contrario. La squadra che vince, domina, cioè la Juventus, e la seconda che è il Napoli, danno, che non ha vinto un cazzo, però, rispetto al Milan dell'epoca, tanto per dirvi, però, Juventus e Napoli, che sono le prime due della classe, danno due giocatori una, due giocatori l'altra, e quant'altro. La Juventus è comunque sempre quella che dà di più, che dà più giocatori. Però, ovviamente, dall'altra, dall'altro canto, la maggior parte dei giocatori titolari della nazionale, sono giocatori di squadre che non hanno vinto nulla. Perché, leviamo la Juventus, appunto, ci sono Insigne e Giorginio che non hanno vinto nulla e sono nella seconda squadra, nulla di importante, intendo, e sono nella seconda squadra, appunto, del campionato. Poi abbiamo Immobile, della Lazio, abbiamo Candreva, dell'Inter, che non sto facendo un cazzo, l'Inter. Abbiamo altri giocatori, come Zappa Costa, del Chelsea, che, ok, non so se ha vinto lui l'anno scorso la Premier League, però, a parte quello, non ha fatto granché. Non so se, insomma, fosse già al Chelsea l'anno scorso, comunque, va bene, non mi ricordo. Poi abbiamo, al centrocampo, a parte De Rossi, che comunque anche lui ha vinto il Mondiale, però, per il resto, ha vinto il Mondiale, grazie a chi, comunque, aveva già vinto qualcosa in passato, perché, insomma, gente che, comunque, sapeva vincere. E poi, al centrocampo, sì, c'è Verratti, che comunque ha vinto in Francia, che non è la stessa cosa di vincere, insomma, un campionato in Italia, l'Inghilterra o in Spagna. E, appunto, Insigne, Immobile, Candreva, poi abbiamo Parolo, abbiamo, avete Parolo, però, parlo, ovviamente, abbiamo, come il calciatore italiano, perché, ripeto, della nazionale a me non frega un cazzo, però parlo, appunto, come calciatori italiani, abbiamo Parolo, e poi, ripeto, Giorginio, altra cosa, quando mi dicono, e perché non dici nazionale, perché, appunto, non posso, e poi mi dicono, e mi danno del razzista, vabbè, datemi il razzista, io mi ritengo patriottico, che è diverso, io non posso vedere nazionali, e poi mi dicono, sì, ma, con Camoranesi, una volta c'era un caso ogni dieci anni, adesso iniziano ad esserci due, tre casi nel giro di due, tre anni, perché ogni anno c'è un nuovo straniero, che non è oriundo, che gioca con la nazionale italiana, secondo me è veramente una cosa improponibile, impensabile, eh, vabbè, ma anche le altre nazionali, infatti, per questo, io ripeto, non seguo più le nazionali, non tifo Italia, ma non tifo neanche le altre, perché qualcuno fa questa porcheria che tifo anche altri nazionali, e non l'Italia, no, a me non interessa, anche perché, appunto, le nazionali stanno diventando come squadre di club, e questa cosa a me fa schifo, ok, le squadre di club sono squadre di club, le nazionali sono nazionali, non è che tu scegli una nazionale o l'altra a seconda della tua convenienza, perché sai che lì giocherai, lì no, no, tu devi scegliere la tua nazionale a seconda del cuore, ok, a seconda del cuore, a seconda di dove sei cresciuto, nato, a seconda del cuore, soprattutto, della bandiera che senti tua, io dubito che Giorginio, come Amauri, come Meno, come Amauri, come altri giocatori, sentano davvero il tricolore nel cuore, io dubito, secondo me lo fanno per convenienza, poi, ognuno può avere la sua idea, comunque, tra l'altro, oggi ho usato il VAR, appunto, in Inghilterra e Italia, altra cosa, il signor Agnelli, presidente dell'ECA, ha detto che nei prossimi anni cercheranno di mettere il VAR in tutte le competizioni nazionali e internazionali, ok, colui che non vuole il VAR perché è contro la Juventus, il sistema Juventus e quant'altro, è il primo che sta spingendo ad avere il VAR ovunque, è il primo che si sta battendo per cambiare il format della Champions, è il primo che si sta battendo per cambiare anche la... che ha avuto, ha avuto, insomma, è riuscito a far ridurre il mercato invernale, ad esempio, è l'unico, uno dei pochi che sta combattendo con buoni esiti anche per il fatto di poter giocare con due squadre diverse in Champions League, in Europa League, ad esempio, se io gioco una partita del girone a settembre con una squadra, a gennaio vado in un'altra, che gioca la stessa competizione, posso giocare quella competizione lì. Questo è un altro passo avanti, però nessuno ne parla, però è Agnelli che sta spingendo per queste cose, quello che gestisce lui come presidente dell'ECA e i suoi collaboratori stanno spingendo per questo e con la FIFA e l'UEFA stanno avendo ottimi rapporti ed è questo anche una cosa positiva da sottolineare che però ovviamente essendo il presidente da Juventus non conviene a nessuno sottolineare queste belle cose, no? Bene, e niente, tornando a Inghilterra-Italia, poi Immobile, ripeto, un giocatore sopravvalutatissimo Ragazzi, è sopravvalutatissimo, è un buon giocatore da Lazio, ma oggi ha sbagliato dei gol che ma neanche in allenamento non puoi sbagliare quei gol, ragazzi, cioè il primo gol, controllo di palla mio nonno che ha quasi 80 anni avrebbe tirato prima di lui perché lui non ha neanche tirato, cioè, tanto per immaginare, per farvi capire vabbè, comunque, l'altro giocatore che tutti invece dicono che è sopravvalutato, che è Belotti secondo me li sbagliate di grosso semplicemente, secondo me sempre, un attaccante come lui che secondo me è molto più forte di Immobile, è molto più forte di Immobile che, l'ha dimostrato l'anno scorso, può capitare in un anno, in un'annata, che va tutto storto ti va tutto storto, chi ha fatto l'attaccante ma chi ha fatto il calciatore, a prescindere può darmi ragione, ti va tutto storto, cioè, sembra veramente che quell'anno ti debba andare tutto male e quindi sbagli tutto, sbagli tutto però poi magari o cambia ambiente, o cambia allenatore, o cambia sistema di gestione della squadra nella quale sei e tu ti rivitalizzi praticamente quindi Belotti, prima di dare giudizi affrettati su di lui io aspetterei, perché ha qualche anno in meno di Immobile, se non sbaglio e per Immobile siete là ancora che leccate il culo che ha vinto il titolo di capocannoniere con il Torino, con la Lazio e quant'altro però alla fine, trofei importanti, non dico Supercoppa Italiana dico trofei importanti, non ne ha portati a casa quindi, capite che è un po' anche perché, se fosse veramente così forte al Dortmund avrebbe fatto sfraccelli, a Sevilla altrettanto e soprattutto l'avrebbero cercato squadre, non come Dortmund e Sevilla ma come la Juventus, che invece ha preferito Morata come giustamente, e lo riconfermo qua e altre squadre top d'Europa invece hanno preferito tenersi magari un Benzema, prendere un Suarez cioè, questo la Juventus dopo Morata ha preferito prendersi Guain invece che Immobile magari spendeva anche meno ragazzi, Immobile è un buon giocatore da Lazio senza dire che è un giocatore di merda non è un bidone Immobile come non è un bidone Icardi ma anche Icardi, è un giocatore da Inter di questa Inter ma non dell'Inter del 2010 perché Etoimilito, Icardi, gli cagano in testa gli cagano in testa come gli cagano in testa Iguain, come anche lo stesso Zecco che quest'anno sembra essere ritornato cioè, ragazzi la parola, ripeto la parola è fenomeno, fuoriclasse campione si usa troppo frequentemente ultimamente ed è per questo che tra l'altro poi vi ritrovate questa nazionale qua perché prima, come diceva Allegri in qualche conferenza stampa di qualche mese fa prima per diventare, per essere definito un campione ma anche solo un ottimo giocatore tu dovevi fare 100 partite di fila in Serie A ad alto livello adesso dopo due partite sei già un fuoriclasse ti mettono già in prima pagina il nuovo Messi il nuovo Pelé il nuovo Maradona cioè è questo che brucia i giocatori soprattutto qui in Italia perché poi anche lo stesso Dybala che è argentino ha sentito questi paragoni qua alla fine non è che si è montato la testa ma siccome ha sentito molto la pressione di questi paragoni con Messi continui, continui io dicevo calma, calma Dybala è Dybala Messi è Messi Messi ha vinto tutto Dybala non ha vinto ancora un cazzo ha vinto gli scudetti che ne sono grato a lui però a livello internazionale non ha vinto quello che ha vinto Messi calma stessa cosa per i giocatori italiani anzi ancora di più perché i giocatori italiani sentono ancora di più la pressione questa è una grandissima differenza a mio avviso poi ripeto la personalità dei giocatori italiani è molto inferiore rispetto a quella che hanno i giocatori stranieri ma non è per sminuire l'italiano è un dato di fatto cioè poi calcolando che in altri paesi hanno le seconde squadre qua no e qua no quindi non sono mai abituati per questo non ho fatto più video ad esempio sulla Juventus primavera perché non ne vale la pena perché magari nella Juventus primavera vi posso dire quello per me è un grande giocatore Lirola ad esempio che vi ho detto che però comunque adesso gioca in una squadra di Serie A e vi avevo detto già ai tempi Lirola siccome farà un'ottima carriera almeno a livello professionistico dopo è andato al Sassuolo comunque magari in un futuro potrebbe anche tornare chissà ma gli altri giocatori io la Juventus primavera non la giudico più perché comunque c'è un dislivello tra primavera e prima squadra impressionante c'è molto meno dislivello tra seconda squadra in Liga Spagnola e prima squadra invece tra Juventus primavera e Juventus prima squadra c'è il mondo perché con la Juventus prima squadra giochi al Bernabeu al Camp Nou davanti a 60 70 80 mila spettatori con la primavera se tutto va bene davanti a 3 4 mila in una partita una partita all'anno perché le altre volte 200-300 tifosi capite che con le seconde squadre invece in Liga Spagnola a differenza di quello che dice qualche mio collega le seconde squadre servono proprio per questo a discapito delle squadre medio piccole tanto non faranno mai un cazzo purtroppo falliranno dopo perché alla fine vediamo le squadre che arrivano lì non hanno i soldi per andare avanti per continuare a tenere quel livello e falliscono questa purtroppo è la verità qui in Italia però ad esempio Liga Spagnola vedi che questi giocatori giocano questi ragazzini dai 16-17 anni giocano davanti a 16.000 tifosi 20.000 tifosi e quant'altro è già un'altra cosa poi andare in prima squadra invece che passare da 200 tifosi a 70.000 tifosi questo è tutto ragazzi questo è quanto vi auguro buona serata a tutti fino alla fine Forza di Juventus sempre e comunque e niente adesso peccato che non vedrò gli sfoghi su youtube perché ovviamente l'Italia è parisato quindi va tutto bene è così il tifoso italiano medio soprattutto chi poi appunto fa disinformazione per altri argomenti e sappiamo tutti a quali argomenti mi riferisco ciao a tutti e fino alla fine Forza di Juventus Grazie a tutti